Ragazzi e benvenuto a questo appuntamento con Davide Calopsite Allora, ho un incontro tra qualche giorno con un mio amico che è uno struttone cinofilo, quindi a destra i cani Se avete delle curiosità, delle domande particolari, che ne so, su come si addestrano i cani, sull'esperienza che può dare, sulle soddisfazioni, su qualsiasi tipo di curiosità Se ne avete qualcuna, scrivetemela qui sotto nei commenti così le farò io direttamente per voi e poi faremo un video in verito Mi raccomando, scrivete e aspetto, eh, ciao!